Sossi, prima i miei, prima casa mia, prima sta con il mio figlio e dopo gli altri. La ricerca d'asilo, la sossi, la prego. Allora, vi fermo, vi fermo. Ma dove viene questo? Era sulle simbie, sulle simbie, sui alberi. No, no, sì. Ah, sì, beh, ok, va bene, questa vale come querela. Lo aveva annunciato e dalla fine così è stato. Paolo Polidori, consigliere provinciale della Lega Nord, ha dato seguito a quanto promesso durante la puntata di Ring del 3 aprile, quando dopo uno scontro verbale con il consigliere comunale di Sello, Marino Sossi, ha lasciato intendere di voler querelare lo stesso Sossi per le frasi a sua detta oltraggiose e difamatorie nei propri confronti. Dove sono? Sono all'ONU, sono stato di diritto, sono stato di diritto, sono troglodito con la colla. Troglodita? Sì, eh. Ti sono diventato nazista, mi nazista. Non ti fa parlare, non ti fa parlare, vi fermo, 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 vi fermo. Con una lettera datata 15 aprile si apprende come Polidori non ci abbia voluto mettere una pietra sopra. Ora il discorso tra i due cambierà sede e forse anche Tony, da ring si passerà nelle sedi competenti degli organi giudiziari. Vi fermo, vi fermo, vi fermo, vi��겠습니다. No, si, va bene, va bene, questa vale come querezza.